Tutti quanti, voi, con la presenza di tutti, compreso che vicino con la Propos e la Propos, anche con il conto di suono, alcuni, alcuni bianchi, per me è stato un piacere di avervi tutti quanti qua, sono un'opozionale che è molto difficile. L'unica cosa che voglio dirvi, divertitevi, perché il cuore viene da vita di un piatta difficile, divertiamoci tutti quanti, mangiamo e non ce ne frega di nessuno, andiamo avanti e la nostra idea è questa.